Sono il dottor Francesco Caritano, sono un biologo nutrizionista, sono sia laureato in chimica e tecnologia farmaceutica che in scienza della nutrizione. In questa importante giornata del 7 di settembre qui all'hotel Sydney stiamo facendo un corso di formazione teorico-pratica proprio sull'utilizzo dell'S-Drive nell'ambito dell'epigenetica. Io ho presentato nella mia relazione di oggi dei casi clinici proprio di pazienti in particolare che erano affetti da fibromialgia perché mi occupo anche di fibromialgia e ho applicato la tecnologia S-Drive. Ho fatto vedere come praticamente facendo questo test, avendo un report, andando ad analizzare i vari fattori nutrizionali, nutraceutici, andando a vedere se la persona è risposta ad inquinanti ambientali, intervenendo sul suo stile di vita, sicuramente la persona migliorava a livello di salute. Infatti ne abbiamo visto tre casi clinici e in tutti e tre casi clinici c'è stato un ottimo risultato. Quindi l'importanza di fare questo test epigenetico è stato oggi da me portato in aula per far capire ai professionisti presenti oggi in platea, praticamente apprezzassero meglio questo potente strumento.